Buongiorno, ben ritrovati, buon sabato mattina, benvenuti alla Rassegna Stampa. Siamo in diretta, sono le 7.30, come tutte le mattine, pronti a farvi vedere i quotidiani, naturalmente in edizione locale di Rastore Carlino e Corriere Adriatico, cosa ci propongono e cosa troverete al loro interno una volta che andrete in edicola a comprarli, ma procediamo con ordine, guardiamo naturalmente l'almanaco del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi è 17 di settembre, San Roberto Bellarmio è vescovo, il sole è sorto alle 6.49 e tramonterà alle 19.15. Facciamo una capatina, come si suol dire, oltre a farvi vedere le previsioni del tempo della protezione civile, prima di sfogliarli, se la regista Irene Guidi mi fa vedere la webcam fuori sul pincio, eccola qua, questa è l'immagine che ci viene rimandata, vedete c'è un inizio di giornata all'insegna del sole, speriamo che il sole accompagni anche il resto del fine settimana. Ritorniamo in studio sul nostro touchscreen e guardiamo quelle che sono le previsioni per le prossime 48 ore, oggi la protezione civile ci mette un po' di nuvole sulla nostra provincia, è pioggia sparsa nelle altre parti della regione, quindi il cielo sarà poco parzialmente nuvoloso con qualche addensamento però maggiore a ridosso dei rilievi, precipitazioni saranno presenti nelle zone montane, possibilità di locali rovesci e temporali pomeridiani, però più che altro nel settore centro-meridionale della regione, quindi forse la pioggia da noi non arriverà, pioggia invece è prevista per domani, pioggia sparsa in tutta la regione anche a carattere di rovescio e il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso e le temperature naturalmente come va da sé in presenza di fenomeni piovosi si abbassano anche di qualche grado, lunedì forse se fosse possibile peggiora anche, molto nuvoloso, sparsa le precipitazioni anche a carattere di temporale e in ulteriore diminuzione le temperature e quindi si abbasseranno ulteriormente le temperature, ormai l'estate forse la archiviamo definitivamente. Bene, guardiamo le pagine dei giornali, iniziamo dal resto del Carlino, c'è tanta cronaca, iniziamo appunto dalla pagina di apertura dell'inserto pesarese del Carlino, in centro pagina, fotonotizia, Marcello, il titolare di una profumeria in centro a Pesaro, banda del buco, praticamente razzia nel salone profumeria di Marcello, entrando dallo Zanzibar un colpo grosso, diciamo così, il ladro si fa bello. Poi anche altra cronaca, cade in moto ed è gravissimo, è un giovane di Marotta, 18 anni, schianto però avvenuto nella Pergolese. Vediamo le altre pagine, ancora incidenti, ancora strade insanguinate, però una cosa che riguarda il passato, questo peruviano travolse all'alba una donna mentre andava a lavorare e fuggì dopo l'incidente mortale. È stato condannato il ritiro della patente per 5 anni la sentenza, inflitti 2 anni e 9 mesi di reclusione e 200 mila euro di provvisionale. Ancora dalle pagine del resto del Carlino, si parla di un'azienda, un'azienda qui vicino di Fossombrone, che è passata in un altro assetto societario, la Dondap di Massimo Berloni, noto marchio a livello mondiale, eccellenza della nostra Made in Italy, Matteo Marzotto sarà presidente della nuova Dondap, però l'azienda resterà qui, Massimo Berloni dice ho ceduto il ruolo ma rimango come garante di questa azienda che dà un indotto di tantissima mano d'opera, oltre a tanta maestranza che c'ha al suo interno. Bene, le pagine di Fano del resto del Carlino, si parla di scuole, le nostre scuole, le scuole dove vanno i nostri ragazzi, sono a posto, serie mascarine, investimenti dicono fatti in tempi non sospetti, questa è la scuola del Vallato e i suoi lavori di rifacimento sia esterno che interno, i grillini dicono falsità, ecco i certificati anti incendio, queste le risposte del Comune alle polemiche montate appunto dai 5 Stelle. Bando vinto, i lavori al nido del quadrifoglio, finanziati con il concorso nazionale promosso dal Brico, Brico è il noto marchio di fai da te, il negozio di fai da te che promuove ogni anno un concorso. E poi andiamo nella zona della Val Cesano, si parla a Cartoceto dove sono presenti 24 migranti vicino all'ex convento, alloggiati in una struttura privata, il sindaco convoca un'assemblea pubblica e poi andiamo a Tavernele di Serrungarina, inaugurata una scuola per l'infanzia per 120 alunni, vedete qui la bella struttura in esterna e insomma si inaugura questa scuola realizzata con il programma dei 6.000 campanili, il programma del governo. Il sindaco naturalmente non può essere che felice perché dice abbiamo il sindaco e questa signora, Marta Falcioni, nel riquadro abbiamo fatto un'operazione positiva, importante e soprattutto sostenibile. Bene, passiamo all'altra testata che vi proponiamo ogni mattina qui nella rassegna stampa, occhio ai giornali, il Corriere Adriatico, il Corriere Adriatico nella nuova impaginazione, nel nuovo formato in primo piano invece appunto l'incidente al 18enne sulla Pergolese e il ragazzo di Marotta ha perso il controllo del mezzo per la manovra di un'auto, a caso di un'auto che stava eseguendo una manovra in strada. Poi anche qui la banda del buco, razzia di profumi da Marcello. Si fa un focus nelle pagine che riguardano Pesaro del Corriere Adriatico anche insomma in inizio di anno scolastico quelle che sono state le propensioni di studenti e di famiglie. Eccola qua la foto, al Marconi si viaggia in prima classe e poi chi va all'agrario c'è chi trova lavoro. Boom, di iscrizione al liceo scientifico che lancia anche una sezione internazionale e il linguistico punta anche sul francese. Ancora dalle pagine però che riguardano un po' le marche, il post terremoto, adesso sono spenti un po' i riflettori, le dirette non ci sono più però i problemi rimangono, rimangono sul territorio, rimangono per quelli che sono lì. Era previsto il maltempo, il riacutizzarsi del tempo brutto con temperature basse e soprattutto ci si mette anche la pioggia. Le tendopoli a rischio pioggia, è pronto il piano di evacuazione e ahimè un pensionato muore a 22 giorni dal sisma e intanto ci sono anche dei battesimi, vedete qui le tende pronti, i pullman per spostare sulla costa adriatica da Quattro del Tronto e Acquassanta Terme gli sfollati nelle strutture sulla riviera adriatica, nelle strutture ricettive negli alberghi. E poi sempre da Pesaro, nuove rotonde, i rondò cancellano le code, anche se insomma le rotonde bisogna saperle prendere, spesso e volentieri qualcuno non ne ha proprio un'idea, però quando vengono utilizzate molto bene eliminano le code. Gli orari di punta promuovono questa strategia e il traffico riesce ad essere più fluido, anche se appunto dice l'articolista da controllare, perché insomma qualcuno proprio non ha una grossa idea di come ci si muove all'interno della rotonda. Passiamo alla pagina di Fano del Corriere Adriatico, la vicenda degli scuola bus che naturalmente ha visto impegnate tante mamme e tanti bambini in una giornata difficile, è il giorno dell'apertura, fino a lunedì non ci sarà questo servizio e i bambini restano a piedi appunto fino a lunedì. Ora il Comune chiede i danni, convocato ieri dall'assessore e dal Comune l'assetto societario che è stato informato che il Comune farà rivalso su di loro per i danni, perché Mascarin dice che ci avevano dato tutte le garanzie, però la Filti CGL chiede anche se sarà revocato l'incarico per inadempienza dell'azienda al servizio per il quale era stato preposto. Il personale dell'AMIC era insomma da inglobare nella nuova azienda il personale che effettuava il servizio fino all'anno scorso, ma non ha accettato il nuovo contratto per peggiori condizioni contrattuali e quindi si sono praticamente ritrovati senza autisti, senza personale che potesse eseguire le tratte. Ieri è stato presentato anche così il programma di massima di quello che sarà il Carnevale nel 2017, Carnevale rilancio da 700 mila euro, punta in alto il nuovo assetto della Carnevalesca perché presenta un programma impostato su quattro linee di intervento, nuovi carri, iniziative culturali, sviluppo della comunicazione, insomma un piano ambizioso ma un bel piano che viene messo in campo, i temi sono stati illustrati appunto nella previsione di spesa ed è necessario tutto l'apporto della città, ma bisogna fare così, per ottenere un bel risultato bisogna puntare in alto, poi a scendere si fa sempre in tempo. Come sempre avviene a fine stagione estiva si traccia un po' il bilancio di quello che è successo con gli albergatori, con le spiagge, ma anche il servizio di sorveglianza delle spiagge di salvamento è sempre impegnato, quest'estate abbiamo visto e abbiamo sentito dalle cronache, tanti episodi insomma in cui i bagnini si sono dati da fare e hanno salvato vite umane anche proprio qui nel nostro tratto di costa, grande vigilanza in spiaggia però occorre un coordinamento, De Benedictis che tra l'altro è un bagnino che ha salvato anche una persona, è necessaria una sinergia tra le postazioni e i mezzi di soccorso, lui stesso è un addetto al salvamento, Mattia De Benedictis, nonché consigliere comunale di noi giovani e lui bene lo sa perché insomma sulle spiagge c'è stato. L'associazione inoltre Mare Dentro chiede un tavolo tecnico con il comune e tutti gli utenti. Mare Dentro, eccoli qua, vedete Enzo Maggi, il suo titolare con questo super rescue che è praticamente questa tavola che serve anche per effettuare salvamento in spiaggia con un addetto della Guardia Costiera, proprio il coordinamento è sicuramente la cosa migliore da fare in questi casi. Andiamo nella pagina della Val Cesano, cade con la moto appunto, il ragazzo è gravissimo, si chiama Giuseppe Serfilippi, è di 18 anni e ha perso il controllo del mezzo per la manovra di un'auto, l'urto contro la recinzione di un vivaio ha causato alcuni traumi ed è ricoverato in terapia intensiva. Qui vedete nella fotina la sua moto, il suo mezzo come ahimè era ridotto dopo lo schianto e questi i primi soccorsi. Ancora dalle pagine del Corriere Adriatico, le ultime che vi faccio vedere, vi faccio vedere un po' di cronica, poi gli eventi ve li faccio vedere in coda, siamo a Senigallia, andiamo nell'ospedale dove si verificano i medesimi episodi che si sono verificati anche nell'ospedale di Fano poco tempo fa, clochard, furti ascensori rotti e il grido di dolore dell'ospedale. L'allarme del Tribunale del malato serve più sorveglianza soprattutto in pronto soccorso come qui da noi del resto. Allora vi faccio vedere, siamo negli ultimi secondi di trasmissione, due eventi che ci sono in questo fine settimana. Allora andiamo a Mondolfo per naturalmente una rievocazione storica, un tuffo nel rinascimento, è la cacciata di Mondolfo dalle 19 in poi, giochi, danze e taverne aperte, poi domani un'intera giornata in abiti storici, vedete la bella scalinata con il palazzo comunale sullo sfondo di Mondolfo. E l'altro evento che vi segnalo riguarda Fano, eccola qua, c'è stata ieri l'inaugurazione, si parla di Aria in questo articolo del Corriere Adriatico, qui vedete i suoi due organizzatori insieme al sindaco Massimo Seri e gli assessori, Colafattori e Fabio Signoretti che hanno dato anima e corpo per questo evento che nel fine settimana si terrà nella bellissima cornice del Pincio di Fano. Si chiama Aria e parla di casa e di tutto il mondo della casa che riguarda sostenibilità, strutture, infrastrutture, arredamento, insomma il mondo della casa a 360 gradi. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia, termina qui l'ultima, la segna stampa della settimana, Occhi e Giornali torna lunedì mattina alle 7.30 puntuale per farvi vedere che cosa vi propongono i quotidiani in edizione locale. Grazie e buon fine settimana a tutti voi.